federica panicucci lascerà mattino 5 è di oggi il gossip che la vorrebbe fuori dai conduttori della prossima stagione anzi di oggi in tutti i sensi lo scoop è arrivato dalle pagine del settimanale oggi del nuovo numero in edicola questa settimana mattino 5 si appresta a concludere una stagione degna di nota gli ascolti lo hanno premiato il pubblico lo segue con passione e spesso ha avuto la meglio sul concorrente uno mattina della rai perché allora cambiare i conduttori o almeno uno dei due e soprattutto se la voce fosse vera cambierebbe uno dei conduttori storici del programma la conduttrice di cecina è al timone del programma mattutino di canale 5 dal 2009 quando era subentrata a barbara d'urso se dovesse realmente lasciare lascerebbe dopo ben 14 anni di conduzione francesco vecchi invece è subentrato a federico novella nel 2006 lasceranno lui solo alla conduzione oppure federica avrà una sostituta tutto per il momento è in attesa di conferme e certezze per ora è soltanto una voce un rumor proveniente dall'ambiente ma veniamo alla notizia del giorno il settimanale oggi ha scritto che il contenitore della mattina di canale 5 potrebbe perdere un pezzo federica panicucci potrebbe lasciare mattino 5 la voce si fa sempre più insistente quando dovrebbe avvenire si parla del prossimo autunno quindi quella in corso potrebbe essere l'ultima sta e perché potrebbe dire addio a mattino 5 la risposta è arrivata dalla stessa rivista è voce insistente che la bionda conduttrice possa lasciare il noto talk il prossimo autunno e diventare la padrona di casa in un programma serale di italia 1 promozione ora per il prossimo autunno Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.